ciao ragazzi sono fra lui e luca c'è ragazze oggi ci sarà una qualità audio e video un attimino della stima ma perché siamo chiamata su discord e siccome pochissimo tempo per registrare facciamo una roba un po flash 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 io direi di passare subito al punto che cosa vogliamo darvi finalmente una bella notizia vogliamo dirvi che abbiamo intenzione di fare un giveaway si dice giveaway 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 è un giveaway giveaway sarà di questi magnifici occhiali no in realtà abbiamo intenzione di farvi un regalo o meglio di natale natalino tattico praticamente il succo del discorso è che regaliamo 25 euri ai giocatori di fortnite ovviamente non a tutti ma uno solo dovrete semplicemente andare nel link che trovate in descrizione che è praticamente un video non fatto in precedenza di fortnite andarlo a guardare e dirci che cosa ne pensate lasciando un commento condividendo con i vostri amici quel video e vediamo se riusciamo ad arrivare a 500 mi piace il requisito è il mi piace sotto quel video l'iscrizione al canale con le campanella e il commento easy proprio semplice cioè può farlo anche vostro zio che magari vince 25 mila cose di fortnite ragazzi noi non siamo soggetti che chiedono il mi piace però siccome vogliamo vedere se questo gioco vi può piacere veramente vogliamo sentirvi noi vogliamo avere interazione dalla parte vostra quindi non prendeteci per delle brutte persone non siamo dei cancri come la gente chiama beh siamo brutte persone effettivamente direi noi siamo brutte persone ma non siamo ancora a quei livelli comunque per voi è semplicissimo praticamente a voi non costa niente anzi avete l'opportunità di guadagnare appunto 25 euro da spendere su fortnite o comunque come volete perché noi ve li diamo in euro e poi voi li spendete come volete direttamente una donazione su paypal su un conto paypal oppure poi comunque vedremo magari una gift card vi daremo praticamente vi scriverò qui quanti a quanto corrispondono 25 euro nella valuta di fortnite ma adesso luca vi dirà anche un'altra cosa molto importante ossia che ci stiamo impegnando e ci stiamo organizzando prima come vedete non stiamo facendo video adesso per spararvi un botto di video mentre siete in vacanza ossia da tipo il 20 a tipo il 6 gennaio proveremo a fare un video il giorno di fortnite sempre con magari sia questo stile del top 8 cose che non sai 10 trucchi di mille posti sia con lo stile funny moments che con quello dei collaborazioni insomma dobbiamo ancora farli in realtà però ci organizzeremo e li faremo gotta che c'è moll mamma mia uno stupratore seriale facciamo questo video perché lo scorso che abbiamo fatto è andato veramente bene brutto mamma mia ma tipo in una cosa un giorno sono salite di 600 video inizio ma boh 500 stanno salendo anche adesso è una cosa assicnante e cioè tu riaggiorni la pagina delle dell'analytics di youtube continui a vedere le views salire quindi è una cosa assurda abbiamo visto che appunto fortnite forse vi può interessare a noi piace e quindi perché no vogliamo sfidarvi in questo modo appunto vedere se ce la facciamo 730 cosa prima ho guardato era 500 te lo giuro ho guardato che erano le 8 e un quarto sono le 21 e 19 è buono bravi ragazzi bravi grandi raga vi premiamo con un po di monete di fortnite che non ci compriamo neanche per noi ma lo facciamo per voi giustamente potete prendere tutte le skin le cose porca droga comunque niente ragazzi noi quello che dovevamo dirvi lo abbiamo detto ci vediamo nei prossimi video perché preparatevi perché dal 20 ossia tra una settimana ne escono un botto sono dumbo sono dumbo si l'elefante al proposito è più lungo però ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao ciao